Entro il 10 ottobre c'è la possibilità di iscriversi a dei corsi che sono molto importanti, spieghiamo perché e precisiamo subito che sono post diploma. Sì infatti abbiamo ad Arezzo finalmente una grandissima opportunità, siamo riusciti a portare il primo ITS sulla meccanica proprio qui ad Arezzo collegato all'istituto Prime di Firenze che è l'istituto più importante della Toscana per i corsi ITS. Sarà un'opportunità grandissima per i nostri giovani, soprattutto va a colmare quello che si dice oggi essere il mismatch fra domanda degli imprenditori e offerta di lavoro. Soprattutto la meccanica ad Arezzo sta andando molto bene, avremo bisogno di queste professionalità. Professionalità che si formano perché, spieghiamo, prendono il diploma e poi in questi corsi apprendono, ci sono proprio imprenditori, persone che vengono a fare i docenti e che hanno cognizioni pratiche. Esatto, dice qual è il vantaggio fra aver fatto un istituto tecnico e l'istituto tecnico superiori? Uno dei grandi vantaggi è che oltre il 50% della docenza è fatta da persone del mondo del lavoro. Quindi, ad esempio, come ti spiegavo prima, la robotica è insegnata da uno che programma robot dalla mattina alla sera, magari vai negli Stati Uniti a programmare una linea automatica e ritorna il lunedì e ti fa il corso di automatismi.